A inizio stagione sembrava un mondiale scontato, alla fine in realtà il pilota favorito ha vinto, seppur con qualche patema d'animo in più. Alla fine Max Verstappen è per la quarta volta consecutiva campione del mondo e lo fa a Las Vegas, nel premio più pacchiano e tamarro della stagione 2024, in un circuito che comunque ha regalato una gara interessante, seppur noiosa rispetto magari a quella dell'anno scorso, dove ci furono grandi sorpassi decisivi. In un mondiale dove però abbiamo visto Max Verstappen per una volta fare il calcolatore e il ragioniere anziché il pilota di attacco. Al pilota olandese in realtà bastava arrivare semplicemente davanti a Lando Norris per laurearsi per la quarta volta consecutiva campione del mondo e così ha fatto all'olandese basta la quinta posizione della gara di Las Vegas con Norris sesto e appunto Verstappen si porta a casa il quarto all'oro iridato. È un mondiale, va detto per una volta, totalmente merito del pilota, nel senso che è vero che la Red Bull è stata dominante per la prima metà di stagione con Verstappen che sostanzialmente era ingiocabile, ma poi dalla metà di stagione in avanti effettivamente la Red Bull ha avuto un calo notevole di prestazione, tant'è vero che i podi e anche la vittoria in Brasile di Verstappen è stata frutto semplicemente del talento del pilota, seppur comunque abbia fatto manovre scorrette nel corso della stagione. Comunque il talento del pilota olandese non si discute e quindi va riconosciuto come questo mondiale sia effettivamente merito di Verstappen, anche perché prendiamo le prestazioni del compagno di squadra, ovvero Sergio Perez, anche oggi a Las Vegas è finito in decima posizione e tutte le volte fatica in qualificazione, anche questa volta Perez è finito fuori in Q1. e quindi con una macchina non performante è ovvio che il pilota talentuoso come Verstappen è deve essere chiamato a giocare per davvero guidando sopra i problemi della Red Bull che ci sono stati e qualche prova l'abbiamo rivista evidentemente. a riguardo, quindi a differenza magari del mondiale scorso dove era praticamente merito della Red Bull che dominava in lungo e in largo, ricordo 23 gare vinte su 24 nella scorsa stagione, qui invece è proprio il mondiale di Max Verstappen e non della Red Bull che infatti nel mondiale costruttori sta arrancando. è stata una gara quella di Verstappen a Las Vegas va detto abbastanza anonima ma appunto il pilota valandese non è che avesse tanta necessità di difendersi, abbiamo visto anche a Las Vegas come la difesa o meglio la non difesa di Verstappen sia stata un fattore soprattutto nei sorpassi con la Ferrari che permettevano alla formazione di Maranello di giocarsi il podio, un podio che appunto peraltro vede una favorita che è stata confermata quantomeno per la gara di Las Vegas perché in tutte le sessioni, e qui andiamo direttamente alla diciamo ricapitolazione della gara, ha visto una Mercedes assolutamente dominante, in particolare con George Russell che ha vinto la gran parte delle sessioni, partiva primo in qualificazione dalla pole position, fa una gara sensazionale e si aggiudica la terza vittoria della carriera. Come a Spa è addirittura doppietta Mercedes perché lui Seventon si inventa una grandissima gara e da decimo arriva in seconda posizione, questa volta la doppietta Mercedes per la carriera è confermata e Russell non è stato squalificato esattamente come a Spa e terzo è Carlos Sainz, la classe operaia riesce ad averla meglio di Verstappen e Leclerc nonostante una manovra abbastanza discutibile, ma poi ne parleremo, però comunque è segno che qui le scuderie da battere erano Mercedes e Ferrari. Sia Red Bull sia McLaren, attuale leader del Mondiale Costruttori invece sono state praticamente un non fattore e sono sostanzialmente disperse, soprattutto per la McLaren che con Lando Norris in un'anonima sesta posizione si porta a casa, sì giro veloce, ma abdica per un mondiale che va detto Norris non avrebbe meritato di vincere perché un pilota che comunque sfrutta malissimo le prime posizioni non merita di vincere un mondiale al rispetto di Verstappen che comunque è più talentuoso rispetto a Norris in questo momento e lo dico da tifoso McLaren. Tronno invece alla gara appunto Russell vince la terza gara della carriera, Mercedes fa la sessantesima doppietta della sua storia per una classifica del campionato mondiale che va a decretare per la quarta volta consecutiva Max Verstappen, campione del mondo, con appunto il pilota olandese che non vinceva tolto il Brasile da Barcellona, segno appunto evidente di quello che dicevo prima, una Red Bull che è calata drasticamente nelle prestazioni e i podi di Verstappen e i piazzamenti sono figli del talento e della capacità di Verstappen di gestire bene le situazioni con una macchina inferiore, però appunto la gara la va a vincere. George Russell che si issa a 217 punti in classifica generale appena davanti al suo caposquadra Lewis Hamilton alla terza ultima gara con la Mercedes prima di arrivare in Ferrari, è doppietta appunto così come a Spa, ma in questo caso Russell non è stato squalificato, Mercedes nettamente dominante con Hamilton va detto driver of the day a mani bassissime perché un pilota che va detto sbaglia la qualificazione, parte decimo con un giro orrendo, riesce con la grande gestione delle gomme che ha a rimontare fino alla seconda posizione si merita ovviamente il driver of the day, grande rimonta di Hamilton che appunto è maestro nel gestire le gomme, tendenzialmente le dure, ma anche con le medie ha fatto un gran bel passo nonostante va detto la Mercedes ha cercato di boicottarlo richiamando prima ai box il pilota inglese. Terzo è Carlos Sainz che appunto riesce ad arrivare a podio, non è stato va detto penalizzato per una manovra che secondo me doveva e poteva essere oggetto almeno di investigazione e invece non è successo un bel niente perché appunto durante il secondo stint della sosta ai box viene richiamato un opposite to this Hamilton, sostanzialmente Hamilton va a fermarsi, Sainz fa l'opposto, il problema è che Sainz stava cercando di rientrare ai box per permettere a Leclerc di difendersi meglio sul pilota dietro, in questo caso però appunto i meccanici Ferrari la combinano grossa ed è un errore gigantesco, non erano pronti quindi cambiano l'idea all'ultimo, Sainz venne richiamato fuori ma Sainz era dentro alla corsia dei box si vede palesemente Sainz che da dentro alla corsia dei box taglia verso la pista esterna e secondo me questa è guida pericolosa, una manovra che doveva essere soggetta quantomeno a investigazione poi se la direzione corsa avesse deciso che Sainz non andava penalizzato perché comunque ha perso tre secondi rallentando nel rientro allora è un discorso, ma non investigare nemmeno una manovra che poteva anche essere soggetta a penalizzazione, secondo me questo è un grave errore della direzione corsa ma sappiamo appunto come la federazione internazionale nella direzione corsa non sia propriamente idiliaca anzi anche oggi ha dato riprova di un errore, Sainz secondo me andava indagato per guida pericolosa e forse anche penalizzato, ripeto la Ferrari sarebbe comunque cascata in piedi perché in quarta posizione è comunque salito Charles Leclerc e quindi ovviamente ipotizzando una penalizzazione di Sainz la Ferrari avrebbe fatto terzo posto con il Monegasco, Leclerc comunque fa una gara che tutto sommato però non è propriamente bellissima perché nel primo stint forza un po' troppo, perde poi posizioni e infatti le posizioni le perde inizialmente sia su Verstappen che su Sainz alla fine il Monegasco finisce quarto con appunto anche un sorpasso su Verstappen che va detto non si è difeso, a Verstappen ripeto ancora una volta basta la quinta posizione per laurearsi per la quarta volta consecutiva campione del mondo non può nulla Lando Norris che appunto ha 64 punti di svantaggio nonostante il giro veloce fatto all'ultimo giro Norris però appunto anche una volta ha dimostrato che non è ancora pronto per competere ad altissimi livelli nel senso che è un ottimo pilota, è un pilota che riesce a fare delle vittorie e dei podi quindi quando migliorerà a partire bene dalla prima posizione allora potrà essere un pilota con una capacità importante di vincere un mondiale cosa che invece qui non si è evidentemente dimostrata nonostante la McLaren sia la macchina migliore e ci sia ancora lotta per il mondiale costruttori però Norris ha fatto una gara anonima, va detto a parziale di scolpa del pilota inglese che evidentemente qui la McLaren non era assolutamente un fattore e lo vediamo anche con la posizione di Oscar Piastri, settimo ma a un'eternità dai primi della classifica, peraltro Piastri si becca anche lo stop in gol di 5 secondi per falsa partenza ottavo è Nico Hülkenberg alla terz'ultima gara con la Haas punti fondamentali per la casa americana nona posizione per Yuki Tsunoda seconda gara punti consecutiva per il giapponese dopo la gara del Brasile decimo è Sergio Perez che salva il salvabile con l'ultimo punto a disposizione in zona punti ma Perez è il motivo prevalentemente per cui la Red Bull non vincerà questo mondiale costruttori un Perez che sostanzialmente sbaglia sempre le qualificazioni parte in zona Williams Sauber insomma le scuderie peggiori del lotto poi ha un buon passo gara con questa Red Bull che comunque non è una macchina ferma e riesce a rimontare ma decimo è una prestazione oltremodo deludente per colui che di fatto azzopperà la Red Bull del mondiale costruttori perché qui arriviamo al macro tema delle ultime due gare della stagione che saranno Qatar e Abu Dhabi il mondiale costruttori è molto aperto ma la Red Bull è nettamente la più sfavorita perché ovviamente correre con un pilota solo in sostanza non fa il gioco di squadre che invece due punte comunque le hanno la Ferrari ha ovviamente Leclerc e Sainz la McLaren ha Norris e Piastri la McLaren in questo momento è in prima posizione al netto che qui a Las Vegas non era assolutamente la macchina favorita anzi Mercedes e Ferrari nettamente meglio bisognerà vedere in Qatar cosa succederà dove la McLaren potrà già chiudere il mondiale costruttori ricordiamo che l'anno scorso Piastri vinse la gara sprint e Norris fece una grandiosa seconda posizione nella gara lunga quindi è una pista favorevole alla scuderia per cui tifo quindi la macchina arancione la Ferrari dovrebbe fare delle super prestazioni per arrivare a tenere aperto un discorso mondiale costruttori che comunque potrà essere considerato soddisfacente a mio modo di vedere per la rossa perché sulla Qatar doveva vincere Red Bull tutto mondiali piloti e costruttori invece abbiamo visto una grandissima lotta per quanto riguarda la seconda parte della stagione e infatti appena ci sarà il vincitore del mondiale costruttori ci sarà un video dedicato al di là che appunto il mondiale è finito oggi per quanto riguarda quello che conta di più ovvero il mondiale piloti con il quarto titolo del mondo consecutivo per Max Verstappen per George Russell invece ricapitolando la terza vittoria della carriera e suona per lui God Save the King così come per lui Hamilton Driver of the Day in seconda posizione terza un'ottima Ferrari con Carlos Sainz chissà che questa prestazione tramutata in Qatar non possa permettere di tenere riaperto ancora una volta il mondiale costruttori che appunto si gioca sostanzialmente tra McLaren e Ferrari con la scuderia per cui tifo la McLaren favorita per tornare a vincere un titolo costruttori che manca veramente da tantissimo tempo fatemi sapere invece cosa ne pensate di questo gran premio di Las Vegas se vi è piaciuto se avete apprezzato comunque la tattica di Verstappen attendista per vincere il campionato del mondo e in generale cosa segnalate di questo GP della terra americana ci vediamo evidentemente mondiale costruttori concluso per quanto riguarda il Racing Podcast della Formula 1 il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video